Sono sicuro che Jeffrey Dahmer non ha bisogno di alcuna presentazione, la sua terribile fama purtroppo lo precede, quindi partiamo subito con l'intro. Ciao belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi ho deciso di raccontarvi un'altra di quelle storie che mi chiedete da sempre. Praticamente ogni giorno c'è qualcuno che mi chiede di parlare di Dahmer e finalmente eccomi qui. Immagino che comunque tutti o quasi tutti conosciate il caso anche per via della serie di Netflix uscita l'anno scorso ormai. Vi dico comunque già che ci sono tantissime informazioni su questo caso, sarà una storia davvero lunga e cruenta. Prima però voglio presentarvi una cosa che mi sta aiutando tantissimo ultimamente. Sto parlando di Cambly che probabilmente già conoscete e che sta gentilmente supportando il mio lavoro su questo canale. Cambly è una piattaforma di e-learning che permette a chiunque di imparare la lingua inglese da remoto. Si può usare con smartphone, pc, tablet, ovunque e quando volete. Io ovviamente prima di parlarvene l'ho provato a fondo e sono rimasto davvero soddisfatto. Ho fatto delle chiacchierate con i tutor madrelingua della piattaforma e oltre ad imparare cose nuove, sinceramente mi sono anche divertito. Sono stati tutti simpatici e disponibili, cosa non da poco. Inoltre su Cambly potrete trovare gratuitamente anche tante risorse super utili come Cambly AI, che è un sistema di intelligenza artificiale che simula una vera conversazione con un tutor. Trovo che Cambly sia la soluzione perfetta per chiunque voglia imparare, viaggiare e mettersi in gioco nel mondo del lavoro. Fidatevi ragazzi, conoscere bene l'inglese fa davvero la differenza. E Cambly in questo senso ci aiuta molto, perché spesso l'inglese che si impara a scuola non è sufficiente per capire appieno e parlare con sicurezza. Cambly quindi mette a disposizione più di 10.000 tutor madrelingua con cui parlare ed esercitarsi, in modo da essere pronti a qualsiasi evenienza. Un viaggio, un colloquio di lavoro, un esame, vi potete preparare a tutto questo senza problemi con un unico abbonamento. E inoltre per il mese di ottobre mi hanno gentilmente fornito il codice promo Andrew50, grazie al quale tutti gli abbonamenti annuali saranno scontati del 50%. E sempre grazie al codice avrete anche la possibilità di fare una prova prima di acquistare l'abbonamento. In ogni caso i prezzi di Cambly sono davvero imbattibili rispetto alle scuole di inglese tradizionali, e io ragazzi ve lo consiglio davvero, mi sono proprio trovato bene. Quindi ringrazio ancora Cambly per aver reso possibile questo video, e vi ricordo il codice sconto Andrew50 che trovate anche in descrizione. Detto questo direi che possiamo cominciare con il file di oggi. Dunque, Jeffrey Lionel Dahmer nasce il 21 giugno 1960 a Milwaukee. E apro già una piccola parentesi per dirvi che dopo questo caso la cittadina non è mai più stata la stessa. A quanto pare anche oggi chi va fisicamente a Milwaukee o chi solo nomina quel posto, pensa subito a Jeffrey Dahmer e preferisce non andarci, non visitarla. Quindi immaginate quanto sarà grave ciò che vi racconterò. Comunque dicevo, Dahmer nasce nel 1960, ma le cose brutte per lui iniziano ancora prima della sua nascita. Sostanzialmente perché la sua famiglia non è proprio una famiglia sana e unita. Da alcune parti su internet però si dice il contrario. Cioè sembra che ogni membro della famiglia abbia un'idea diversa. Molti infatti ricordano la famiglia Dahmer come perfetta, unita e felice. Mentre altri, tipo i figli, ricordano l'esatto opposto. Quindi, qual è la verità? In questo caso forse bisognerebbe credere alla parte negativa della questione, nel senso che questa famiglia sembra proprio essere lo stereotipo di famiglia disfunzionale. Vi spiego perché. Tutto nasce dalla madre di Jeffrey, Joyce. Lei è sempre stata una donna problematica, avida e instabile. Si dice che spesso fosse depressa e che obbligasse suo marito a darle sempre attenzioni. Per farvi capire, durante la gravidanza di Jeffrey, a quanto pare si convince di essersi ammalata. Ma in realtà non ha sintomi particolari, comincia solo a soffrire dei normalissimi dolori di una gravidanza. Lei però si convince di avere un male incurabile e per questo comincia a prendere un sacco di medicinali, a quanto pare antidepressivi o calmanti. I dottori, in quel periodo, provano a fermarla, le dicono che non ha niente che non va e le sconsigliano vivamente di prendere i medicinali. Ma lei non vuole ascoltare nessuno e continua allo stesso a prendere queste pillole. Solo ora sappiamo che questa sua malattia era causata dalla sua stessa psiche. Era immaginaria ed era sorta per non farle accettare la verità. In altre parole, non voleva essere davvero incinta e quindi la sua psica ha creato tutta questa situazione delicata. E comunque una volta nato il piccolo Jeffrey, la situazione per lei non migliora affatto. Non è facile capire cosa stesse provando esattamente in quel periodo, perché sembra contraddirsi di continuo. Joyce è felice di suo figlio, ma non gli dà le dovute attenzioni. Nelle foto di famiglia è sempre sorridente, ma in realtà, dentro di sé, continua a soffrire di depressione. Una volta la donna ha anche tentato di togliersi la vita. Ma una delle cose più terribili dell'infanzia di Jeffrey sono i litigi tra sua madre e suo padre. Suo padre Lionel, infatti, non è molto presente in casa. E il motivo è molto semplice, non sopporta sua moglie. In questo periodo l'uomo sta studiando all'università per prendere la laurea e trovare un lavoro migliore, ma odia Joyce per i suoi comportamenti esagerati. Per cui, dato che non ha bisogno di altro stress oltre al lavoro e allo studio, decide di stare fuori casa praticamente tutto il giorno e tutti i giorni. In casa non riesce mai a stare tranquillo. Litiga sempre con Joyce, così spesso va al bar con gli amici e si ubriaca come se non ci fosse un domani. Quindi, tra le mura domestiche, Jeffrey vede una madre che pretende sempre più attenzioni e un padre alcolizzato che fa di tutto per non dargliele e, in generale, per non passare il tempo lì con loro. Tuttavia, fino ai quattro anni di Jeffrey, sembra andare tutto abbastanza bene. Nel senso che il bimbo cresce abbastanza in salute, felice e con tanta energia. Ma dopo un intervento chirurgico, sembra cambiare carattere. Gli vengono rimosse due ernie e da quel momento in poi è come se si fosse spento. Diventa meno allegro, un po' più cupo, meno energico e a scuola diventa molto timido e riservato. Stranamente non si parla di bullismo, il che è una novità per questo tipo di storie. Anzi, nonostante tutto, il piccolo Jeffrey ha degli amichetti con cui giocare, ma diciamo che preferisce chiudersi nel suo mondo. E dentro questo suo mondo, cominciano ad apparire i primi aspetti molto inquietanti. Il bimbo infatti comincia a collezionare degli animaletti e scopre di adorare alla follia questo suo passatempo. Di tanto in tanto prende qualche farfallina o qualche insetto che trova in cortile e li chiude in dei barattoli di vetro. Fin qui tutto normale, molti bambini fanno sta cosa. Anche l'inventore dei Pokémon lo faceva e infatti è nato così il franchise e l'idea di catturarli tutti. Questo per farvi capire che collezionare insetti non è una cosa strana o preoccupante. Jeffrey però è diverso. Perché dopo neanche troppo tempo comincia a collezionare animali morti e non solo. Cattura anche animali vivi ma sempre più grossi e comincia a vivisezionarli. Secondo il suo ragionamento, lui vuole vedere come sono gli animali dentro. E a detta sua vuole anche scoprire come si incastrano, tra virgolette, tutti i componenti di questi animali. I suoi amici non sono molto felici di questa sua passione, ma a lui non importa più di tanto. E tra litigi in famiglia e gli amici che diventano sempre di meno, Jeffrey passa così le sue giornate. Un giorno in particolare però fa la prima cosa davvero tanto preoccupante. Un campanello d'allarme secondo me gigantesco. Praticamente quel giorno Jeffrey trova per strada un cane morto che era stato investito. E dato che era da mesi che collezionava animali morti, raccoglie questo cane e lo porta nel capanno degli attrezzi. A quanto pare in quel momento i suoi genitori non erano in casa, per cui lui si è proprio sentito libero di fare tutto ciò che voleva. Quindi per prima cosa stacca la testa della carcassa, poi prende il suo corpo e lo inchioda ad un albero. Poi pulisce la testa dai peli, le toglie gli occhi e tutto il resto. Quindi prende il teschio, lo porta in una zona boschiva fuori di casa e lo conficca su una croce di legno. Non ho idea del motivo per cui ha fatto una cosa del genere e forse non ce l'aveva nemmeno lui. Ed è proprio questo il problema, perché sembra che abbia agito distinto. Forse per lui è stato tutto un gioco, ma di lì in poi le cose sarebbero peggiorate. Sempre di più. Una volta compiuti i sei anni, la famiglia di Jeffrey si trasferisce in varie città dell'Oaio. E all'età di soli otto anni purtroppo viene molestato sessualmente da un vicino di casa. Anche se su questa informazione ci sono alcuni dubbi. Sempre in questo periodo, a dir poco turbolento, sua madre Joyce rimane incinta di un altro bambino. È un altro maschietto. E a dargli il nome è lo stesso Jeffrey, che decide di chiamarlo David. La situazione però adesso fa davvero schifo, perché non solo Jeffrey è completamente alienato dal resto del mondo, ma sua madre, dopo la seconda gravidanza, peggiora ancora di più. Jeff intanto è sempre più fissato su cose estremamente macabre e molto particolari. Per farvi un esempio, durante una cena di famiglia, mentre stanno mangiando del pollo, Jeff chiede a suo padre come si fa a sciogliere le ossa del pollo. Suo padre è un chimico e questa domanda, seppur strana, per lui è interessante. Cioè nella sua testa pensa che il suo figlio si stia interessando al suo lavoro. Così comincia a credere di poter passare un po' più di tempo con lui. Pensa che ci sarebbe stato qualcosa di cui parlare, qualcosa da approfondire. Ed è quindi grazie a lui che Jeffrey impara delle tecniche molto particolari, tecniche che utilizzerà più avanti per sbarazzarsi delle sue vittime. Quindi sì, il bimbo era interessato al lavoro del padre, ma a modo suo. In ogni caso, passa del tempo e sua madre peggiora giorno dopo giorno, fino ad arrivare a chiedere il divorzio. Segue poi una lunga causa legale per l'affidamento del figlio minore, ovvero David, e la donna effettivamente riesce a portarlo via con sé. Ma abbandona in casa Jeffrey lasciandolo solo e senza cibo. Il piccolo viene poi trovato dal padre solo due giorni dopo l'abbandono, e lui lo trova seduto in mezzo a un pentagramma disegnato con il gesso sul pavimento della cameretta. Jeffrey è in stato di shock e spiega che aveva cercato di fare una sorta di seduta spiritica per poter parlare con i morti. Tutto davvero assurdo, ma devo dirvi che da alcune parti si dice che tutta questa faccenda sia successa più in là nel tempo, quando Jeffrey era ormai adolescente. Io ve l'ho riportata adesso perché appunto non è chiarissimo quando sia accaduto, quindi sappiate che potrebbe essere avvenuta anche più in là. A tal proposito, comunque parliamo ora della sua adolescenza. Ovviamente le cose non vanno bene neanche qui. Diciamo che ormai Jeffrey non è più così tanto timido. Anzi, spesso porta degli alcolici a scuola per bere in classe, ed è verso l'età del liceo che capisce di essere omosessuale, cosa che negli anni 70 non era per niente accettata. Quindi una volta capita questa cosa non ci pensa neanche a dirlo ai suoi genitori, anche perché a questo punto ormai non è nemmeno troppo legato a loro. Tuttavia comincia a frequentare qualche suo coetaneo e ha qualche relazione con dei ragazzi. In questo periodo capisce cosa gli piace e, indovinate che cosa gli piace, Jeffrey adora sottomettere il partner. Vuole dominare gli altri e assoggettarli a suo controllo. Quindi tra alco le nuove esperienze diciamo che tralascia un po' lo studio. Nonostante tutto però nel 78 riesce a diplomarsi. Ora ha 18 anni ed è legalmente un adulto, ormai però purtroppo non ha più freni. Il 18 giugno 1978, maggiorenne da circa un mese, Jeff incontra la sua futura prima vittima, un autostoppista. Vedendolo il ragazzo pensa subito che sia molto carino, quindi lo fa salire in macchina e i due si presentano. Lui si chiama Stephen Hicks e ha solo 19 anni. I due ragazzi cominciano a chiacchierare e parlare del più e del meno e alla fine Jeffrey riesce a convincerlo ad andare a casa sua. I due ragazzi si piacciono, parlano molto, scherzano e ridono, stanno molto bene insieme. Bevono anche un po' di birre e alla fine hanno un rapporto intimo. Tutto molto bello e tranquillo, ma quando finiscono di fare le loro cose, Stephen gli dice che vuole andarsene, vuole tornare a casa. Per lui si è trattato solo di un'avventura casuale, nulla di troppo serio. Ma Jeffrey, sentendo queste parole, crolla. Perché comincia a sentire una fortissima sensazione di abbandono. Si comporta un po' come sua madre, non vuole essere abbandonato e pretende attenzioni. Così i due finiscono per litigare. Jeffrey arriva ad usare le mani e scatena tutta la sua rabbia sul povero Stephen. La lite diventa furiosa in pochissimo tempo e culmina con Jeffrey che lo colpisce in testa stordendolo. Dopodiché lo strabola fino a togliergli la vita. Agisce in modo rapido e freddo. E si accorge che ciò che aveva appena fatto lo aveva eccitato tantissimo. Talmente tanto che comincia a toccarsi guardando quello che aveva fatto. Gli è piaciuto davvero tanto uccidere, ma adesso ha un cadavere in casa e pensa di doversene sbarazzare. Si ricorda allora dei modi in cui giocava con gli animali e le tecniche di chimica che gli aveva insegnato suo padre. Così il giorno dopo fa letteralmente a pezzi il corpo di Stephen nel seminterrato. Poi prende una pala e lo seppellisce in giardino in diverse buste di plastica. In altre fonti però si racconta una vicenda diversa, un po' più macabra. Sì, Jeffrey effettivamente seppellisce i resti di Stephen ma senza metterli in dei sacchetti. Giorni dopo però li dissotterra e usa dell'acido per scioglierne la carne così da rimanere solo con le sue ossa. Anche questa volta non è chiaro il perché abbia fatto una cosa simile. Cioè sembra ancora una volta che abbia agito distinto e che fa davvero paura. Sta di fatto che più avanti butta l'acido nel water, prende le ossa della vittima, le spezza e le butta in una zona boschiva lì vicino. Quindi al di là di come sia andato lo smaltimento tra virgolette del cadavere, Jeffrey ha effettivamente commesso il suo primo misuridio e gli è piaciuto tanto. Anzi, troppo. Nonostante tutto, per un po' Jeffrey si ferma, non fa niente di che. Ma c'è un motivo. Suo padre vuole aiutarlo, vuole dargli uno scopo nella vita. Così gli paga il college, ma lui lo frequenta solo per tre mesi e poi abbandona gli studi. Quindi in sostanza fa sprecare un sacco di soldi a suo padre, perché non so se lo sapete, ma i college americani sono carissimi. Comunque il ragazzo allora viene spronato ad entrare nell'esercito ed effettivamente si arruola. Durante la fase di selezione se la cava anche piuttosto bene. Diventa specialista medico a San Antonio in Texas. Poi viene mandato in Germania. E lì purtroppo non si comporta molto bene. Secondo dei fascicoli pubblicati, durante questo periodo in Europa, Jeffrey ha violato due soldati. Uno dei quali, per addirittura 17 mesi di fila, in continuazione. Possiamo dire quindi che Jeffrey non fa altro che peggiorare. Nel marzo del 1981 viene ritenuto non idoneo al servizio militare e viene congedato. Ma stranamente non per gli soldi che aveva commesso. Piuttosto per l'abuso di alcol. Altro vizio che lo contraddistingue. Nonostante il congedo, però, gli vengono offerti alcuni privilegi. Tipo poter andare ovunque nel paese, praticamente gratis. E dato che a questo punto Jeffrey non vuole tornare da suo padre e dirgli che ha fallito tutto, sceglie di andare in Florida. Più precisamente a Miami Beach. Va lì senza dirlo al padre e trova un lavoretto come cameriere. Trova anche una stanza in cui stare, in un motel lì vicino. Insomma, sembra tutto perfetto, ma non lo è, chiaramente. Perché è di nuovo libero di fare ciò che vuole. E le cose che vuole fare, ormai lo sapete, non sono affatto piacevoli. Da quel che sappiamo, il periodo in Florida passa molto velocemente, perché Jeff spende quasi tutto il suo stipendio nell'alcol. Viene sfrattato quindi dal motel perché non aveva pagato la quota. Solo a quel punto si arrende e chiama suo padre. Gli racconta cosa è successo e gli chiede se può tornare da lui in Ohio. Lui gli dice di sì e Jeffrey torna a vivere di nuovo con suo padre. E con la sua nuova compagna. In casa, però, non si sta molto bene perché Jeffrey continua a bere tantissimo. Tanto che la sua camera si riempie subito di bottiglie vuote sparse sul pavimento. Il ragazzo aiuta ogni tanto con le faccende domestiche, prova a trovarsi un lavoro in giro, ma sembra che non gli importi nulla di tutto ciò. Sostanzialmente non fa niente ed è solo un peso in casa. Allora suo padre, che si è rotto le palle, scusate, lo caccia di casa e lo manda da sua nonna nel Wisconsin. E malgrado questo trasloco forzato, Jeffrey in realtà comincia a cambiare in meglio, almeno per un po' di tempo. Lui adora sua nonna e sua nonna adora lui. Vivono molto bene insieme. La aiuta in casa, chiacchierano, vanno addirittura messe insieme. Jeffrey in questo periodo trova anche un lavoro e rimane lì per quasi un anno intero. Tutto sembra andare meglio adesso, ma è solo apparenza. Alla fine perde il lavoro e rimane disoccupato per due anni consecutivi. Verso la fine dell'85 comincia a frequentare dei bagni o delle terme frequentati da altre persone omosessuali. Comincia quindi ad andare a letto con molti frequentatori e dipendenti di queste strutture. Ma comincia a capire in questo periodo che gli dà davvero tanto fastidio che queste persone parlino durante i rapporti. Lui vuole sottomettere, ma pretende anche che i suoi partner stiano zitti e fermi. Che rimangano sotto il suo controllo immobili. Per questi motivi arriva a drogare alcune di queste persone e, fondamentalmente, le stucca. Fa queste cose orribili ben 12 volte prima di venire beccato. Quindi viene espulso da quelle terme, ma nessuno chiama la polizia. A quanto pare, anche se qualcuno l'avesse chiamata, nessuno si sarebbe interessato davvero a questa vicenda perché si trattava di omosessuali e, quindi, secondo l'idea del tempo, erano persone di serie B. Dei pervertiti. A nessuno importava di loro. E forse questo Jeffrey lo sapeva fin troppo bene. Che tristezza, veramente. Immaginate quante cose si sarebbero evitate se solo ci fosse stata meno ignoranza. Vabbè. Ad ogni modo, dopo essere stato cacciato dalle terme, Jeffrey affitta una stanza e comincia a cercare in giro qualcuno con cui sfogarsi. Il 20 novembre 1987 incontra in un bar un uomo di 25 anni. E, piccolo disclaimer, da ora in poi non farò i nomi delle altre vittime perché, a quanto pare, i familiari di queste vittime non hanno dato il consenso e hanno anche denunciato parecchie persone, per cui abbiate pazienza, ma per rispetto non dirò altri nomi. Per la primissima vittima, l'autostoppista di 19 anni, non sembrano esserci problemi. Infatti vi ho detto come si chiamava. Comunque dicevo, Jeff incontra quest'uomo di 25 anni. Si parlano, si conoscono e poi lo invita in quella camera d'hotel che aveva affittato. Non vuole ucciderlo, vuole drogarlo e parlo mentre è incosciente. Quindi salgono su, bevono tantissimo e Jeff ha un vuoto di memoria. Si sveglia direttamente la mattina successiva senza capire effettivamente cosa fosse successo e quello che trova è questo ragazzo, il 25enne, riverso a terra, col petto schiacciato, pieno di lividi e sangue che gli esce da un angolo della bocca. Nota anche che il suo braccio, intendo il braccio di Jeffrey, è pieno di lividi come se avesse fatto una rissa o qualcosa del genere. Ma ovviamente il suo primo pensiero non è quello di preoccuparsi o pensare a come agire in maniera legale, tipo chiamando la polizia. Pensa semplicemente che è nei casini e che deve sbarazzarsi di un corpo di nuovo. Allora compra un bagaglio molto grande e mette il corpo lì dentro. Esce dall'hotel, va a casa di sua nonna e lascia lì il cadavere da lei, da sua nonna. E lo lascia lì per un'intera settimana. Poi, come aveva fatto con la prima vittima, sembra il corpo nel seminterrato, taglia tutto quanto, poi separa la carne dalle ossa e mette queste due cose in sacchetti della spazzatura separati. Dopodiché frantuma le ossa con una mazza e fa tutto questo sempre nel seminterrato di casa di sua nonna. Poi vabbè, smaltisce tutti i resti semplicemente buttandoli nella spazzatura. Fatta eccezione per la testa. Perché per quella aveva in mente qualcosa di diverso. Jeff infatti decide che vuole tenere il suo teschio e ancora una volta sfrutta gli insegnamenti di chimica di suo padre per pulire il teschio dalla carne. Mette letteralmente a bollire tutto, poi la passa nell'acido e nella candeggina. Sfortunatamente per lui la candeggina rende troppo fragile l'osso, così si frantuma in tanti pezzi. Lui rimane molto deluso da questa cosa perché quella testa era la parte del corpo che più gli interessava. Cioè capite, la follia voleva tenersi un trofeo, voleva averlo sempre con sé. Anche se non si ricordava neanche di averlo ucciso, cioè assurdo. Ma comunque non si deprime più di tanto e va subito alla ricerca della sua prossima vittima. Ormai capisce che non vuole far altro che questo. Jeffrey Dahmer trova lavoro in una fabbrica di cioccolato e continua la sua scea di morte di ragazzo in ragazzo. Spesso li rimorchia nei gay bar dove spesso ha successo. Droga questi ragazzi, li s*****a e poi li uccide. E siccome a nessuno importa molto della comunità omosessuale, nessuno comincia ad indagare su tutte queste sparizioni. Ad un certo punto incontra i rimorchi a un ragazzo di soli 14 anni. Questo povero ragazzino, praticamente, era un gigolo, che già è triste come situazione. E purtroppo incontra Jeffrey che gli offre 50 dollari per fare da modello per delle foto. Il 14enne accetta, Jeff lo porta a casa di sua nonna e fanno le loro cose. Dopo averlo fatto, Jeffrey gli offre un drink con dei sonniferi, lui lo beve e si addormenta. Dopodiché, nessunno, lo uccide. Ancora una volta fa passare una settimana e ancora una volta lo smembra nel seminterrato. Butta di nuovo i suoi resti ma conserva la testa. Ripete lo stesso schema dell'altra vittima e ancora una volta fallisce. Rende troppo fragile il teschio e si deteriora. A questo punto Jeffrey si arrabbia molto, butta anche i resti del teschio e comincia a provare a sperimentare in ogni modo per migliorare la sua tecnica. Che schifo, così passa altro tempo in questo modo veramente macabro e incontra la sua prossima vittima, un altro ragazzo di 25 anni. Gli rifila la stessa scusa dei 50 dollari in cambio di una foto e purtroppo il ragazzo ci casca e accetta. Ancora una volta stessa storia, rapporto droga e smembranti, ma questa volta c'è una differenza. Jeffrey smembra il corpo di questo ragazzo quasi subito, non fa passare una settimana. Inoltre non vuole neanche tenere il suo teschio. E questo perché per lui questo ragazzo era troppo bello, quindi non voleva conservarlo. Non lo so, è un ragionamento molto contorto che lui stesso contraddirà anni dopo. Dopo circa un mesetto comunque Jeffrey porta a casa un altro ragazzo, come al solito lo droga con dei sunniferi, ma ad un certo punto sua nonna lo chiama dal piano di sopra. Lui le risponde e le dice che è da solo, lei però prima di chiamarlo aveva già sentito che non era solo. Una situazione molto pericolosa per il giovane killer, stava per essere scoperto. Così anche se non ho idea di come abbia fatto, Jeffrey riesce a portare questo ragazzo in macchina senza farsi scoprire. Poi lo porta in un ospedale lì vicino e lo scarica lì senza fare altro. Semplicemente se ne va. Non avete idea di quanto questo ragazzo sia stato fortunato. Fino ad ora è l'unico ad essere sopravvissuto ad un incontro con Jeffrey. Intanto sua nonna comincia a sospettare qualcosa, si fa delle domande, vuole vederci chiaro. Sa che suo nipote porta a casa dei ragazzi a tardanotte e non sopporta la puzza che arriva dal seminterrato e dal garage. È convinta che sia roba di Jeffrey e non la vuole più tra i piedi, però non indaga molto. Non va a controllare bene qual è la causa di questa puzza. Sospetta qualcosa sì, ma non può immaginare che mostro è realmente suo nipote. Pensa semplicemente che sia un pervertito. Se fosse andata leggermente più a fondo probabilmente questa storia sarebbe finita così. Invece purtroppo le cose sono andate diversamente. Jeffrey va via di casa di sua nonna perché è stato praticamente cacciato e trova un appartamento tutto suo. Ma solo il giorno dopo il trasferimento viene arrestato. Ma non per i vari omicidi che aveva commesso, viene arrestato perché era stato beccato a rimorchiare un ragazzino di soli 13 anni. Lo aveva tirato a casa sua, lo aveva drogato e lo aveva toccato in modo molto inappropriato. Quindi appunto viene arrestato e accusato di molesti su minori. Ma la sua condanna per qualche motivo viene sospesa dopo pochissimo tempo. Quindi viene rilasciato in libertà vigilata come se nulla fosse. Tuttavia non torna nel suo appartamento ma va di nuovo a casa di sua nonna. Non so bene se lei l'avesse perdonato oppure se fosse obbligato a tornare lì per via della libertà vigilata, non lo so. Fatto sta che torna lì. È da questo punto che incontra un altro ragazzo. Si tratta di un modello molto attraente. Per lui era il ragazzo più bello mai incontrato. Purtroppo però gli fa le stesse identiche cose che aveva fatto anche agli altri. Non serve neanche stare qui a ripeterle. La particolarità però è che questa volta decide di conservare quasi tutto di lui. Gli piace così tanto che vuole tenerlo tutto per sé. Quindi fa pezzi in molte parti ma conserva specialmente la testa e il pene. E riesce a conservarli molto bene. Cioè non si deteriorano. Li tiene nascosti per un bel po' ma quando di nuovo è costretto a trasferirsi li porta via con sé. Finora li aveva tenuti in segreto nell'armadietto che aveva lavoro. Che cazzo. Ancora una volta comunque si ritrova da solo e decide di andare a vivere nella sua città natale. Milwaukee. La zona in cui trova il nuovo appartamento ha un alto tasso di criminalità. Quindi per lui è perfetto. Infatti dopo pochissimo tempo trasforma la sua nuova casa in un vero e proprio mattatoio. La sua prima vittima di questa nuova fase della sua vita è un gigolo di 32 anni. Jeffrey lo attira a casa offrendo gli 50 dollari per un rapporto e si ritorna con il solito modus operandi. Lo droga, lo staggola e lo smaggola. Il giorno dopo compra una polaroid con cui comincia a scattare diverse foto alle sue vittime. Damer continua ad uccidere un ragazzo dopo l'altro, sempre allo stesso modo. Ogni tanto sceglie di tenere qualche cadavere nel congelatore, qualche pezzo. Non lo so, è uno schifo veramente. E purtroppo su internet si può trovare anche qualcosa. Non cercate niente, ma vi dico solo che quella casa non era una casa. Era veramente diventata un macello. Letteralmente. Quindi, come immaginate, in questo periodo si esercita tantissimo. Cioè, diventa bravissimo a conservare i resti. Si esercita proprio una vittima dopo l'altra. Ma ad uno di loro decide di riservare un nuovo trattamento. Non avendo abbastanza sonnifero per stenderlo, gli taglia la gola e lo fa morire di tinguato. Poi ovviamente lo s*****a e passa giorni interi a parlare con la sua testa. Di tanto in tanto la bacia pure. E non sto qua a dirvi altri dettagli di che cosa faceva. In sostanza fa cose sempre peggiori, sempre più disgustose e inquietanti. Quindi mette a bollire i suoi resti e poi li immerge nell'acido. Ma questa volta dipinge il teschio che riesce a conservare benissimo. E ricordate la Polaroid? Ecco, adesso comincia ad usarla tantissimo e conserva le foto delle sue vittime per creare una sorta di... Non lo so, museo degli orrori in casa sua. Mesi dopo, adesca un altro ragazzo. Verso cui però non prova molta attrazione. Non conserva niente di lui. Lo s*****a, ma comunque gli fa delle foto. Tempo dopo trova un altro ragazzo e con lui fa una cosa ancora peggiore. Come al solito lo porta a casa sua e lo droga, ma non lo uccide subito. Mentre il ragazzo è ancora vivo, gli buca il cranio. E dopo che gli ha fatto questo buco dolorosissimo, il ragazzo si sveglia. Cioè immaginate l'orrore e il dolore che deve aver provato. E ovviamente a Jeffrey questa cosa piace tantissimo. Voleva che si svegliasse, non vedeva l'ora. Anche perché aveva fatto tutto ciò al fine di rendere il ragazzo inoffensivo e ubbidiente. Una sorta di zombie senza volontà che li gira per casa e lo soddisfa 24 ore su 24. Per questo è contento quando lo vede svegliarsi. Crede di essere riuscito a fare questa sorta di esperimento. Ed effettivamente il ragazzo non sembra più umano. Non sa più dove si trova, né cosa gli sia successo. Allora Jeffrey lo droga di nuovo e lo tiene al sicuro il più possibile perché non vuole perderlo. Ma stranamente alla fine... L'ho detta. Non è chiaro il perché, ma una fonte dice che l'ha ucciso perché alla fine questo ragazzo sarebbe morto comunque di lì a poco. Dahmer quindi chiaramente vuole almeno tenere il suo teschio perché è l'unico che aveva forato. È speciale per lui. Così comincia come al solito con tutti i suoi vari procedimenti per conservarlo. Ma questa volta finisce per distruggerlo. Non riesce a mantenerlo integro. Chiaramente ci rimane male. Poverino. Ma non sa che questo in realtà è l'ultimo dei suoi problemi. Innanzitutto i vicini di casa cominciano a lamentarsi della puzza insopportabile che proviene dal suo appartamento. E lamentano anche strani rumori simili a quelli che farebbe una motosega. Il proprietario del condominio quindi chiama Jeffrey due volte per riferirgli queste lamentele e per due volte lui inventa delle scuse. Ma nessuno indaga oltre. Sarebbe potuta finire qui ma nessuno si è interessato abbastanza. Intanto Jeffrey continua con le sue cose malate. Un giorno rimorchia un ragazzino che prima si dimostra diffidente ma che poi accetta di andare a casa sua. Anche questa volta Dahmer vuole renderlo una sorta di zombie. E dopo alcune foto lo droga e gli fa una ferita alla testa. Jeff però non lo uccide. Anzi lo lascia da solo in casa e va in un bar a bere qualcosa. Per cui quando il ragazzino si sveglia ne approfitta per andarsene. Ma purtroppo non riesce ad andare tanto lontano. Rimane lì nei paraggi, nudo, tutto solo in un marciapiede. Completamente stordito. E due donne lo notano e provano a parlargli. Cercano di aiutarlo. Capiscono che c'è qualcosa che non va. Ma non fanno in tempo ad indagare oltre che arriva Jeffrey. Quest'ultimo spiega subito alle donne che il ragazzino era un suo amico intimo. Dice che si era ubriacato molto e che lo avrebbe riportato a casa. Le due però hanno una pessima sensazione. Capiscono che Jeffrey stava mentendo. Allora una la distrae e prende tempo, mentre l'altra chiama il 911. In poco tempo arriva la polizia e gli agenti fanno varie domande ad Amer. E lui continua a dire le stesse bugie. Ma in qualche modo riesce a convincerli. Una di quelle due donne intanto prende da parte un agente e gli dice chiaramente che c'era qualcosa che non andava. Gli fa notare che il ragazzino aveva un taglio sulla testa e che non voleva tornare da Jeffrey. Gli dice che sembrava realmente in pericolo di vita. Ma il poliziotto le dice volgarmente di andarsene a quel paese e di lasciarli perdere. Ritorna quindi il discorso che vi ho fatto prima. Per cui i poliziotti erano solo due omosessuali. E quindi erano visti con un certo disprezzo come se fossero dei pervertiti e dei depravati. Per questo il povero ragazzino viene costretto a tornare nella casa di Dahmer. Dove morirà poco dopo. Questo delitto in particolare si poteva evitare in migliaia di modi. Ed evitando questo delitto avrebbero scoperto anche tutti gli altri. Ma non è andata così. Passa altro tempo e Jeffrey prende dei giorni di permesso da lavoro per smemmare diversi corpi che intanto aveva collezionato in casa sua. Perde davvero tanti giorni di lavoro e per questo motivo alla fine viene licenziato. Ma ovviamente a lui non frega nulla. Infatti continua con le sue attività come se niente fosse. E in questo modo si arriva finalmente alla sua ultima vittima. E qui ragazzi succede davvero un casino. Questa volta conosce un uomo di 32 anni che accetta il suo invito a casa solo perché gli aveva promesso 100 dollari per degli scatti hot. Ma già all'ingresso quest'uomo si sente una puzza insopportabile. Vede poi delle taniche di alcol etilico e questa cosa lo preoccupa tantissimo. Quindi chiede ad Dahmer perché avesse quella roba. Lui però gli risponde semplicemente che usava l'alcol per pulire i mattoni di casa. Una scusa poco credibile. Infatti l'uomo non gli crede ma non dice altro. Comincia a guardarsi intorno preoccupato e ad un certo punto all'improvviso Jeffrey prova ad ammanettarlo. Ma non ci riesce e l'uomo reagisce chiedendoli cosa cavolo stesse facendo. Jeff anche stavolta inventa una scusa più o meno innocente e lo invita in camera da letto. Lì la puzza si fa ancora più forte ma nonostante tutto i due si mettono a letto. Jeffrey appoggia la testa sul petto dell'uomo il che dovrebbe essere un gesto romantico. Ma in realtà il killer teneva nascosto un coltello. A quel punto l'uomo capisce, la vittima, capisce sempre di più che questo Jeffrey è qualcosa che non va. E un po' in panico gli chiede di andare in bagno. Dahmer gli dà il permesso? Così l'uomo va in bagno in cerca di una via di fuga ma nota subito che lì non c'è nessuna finestra. Comincia a preoccuparsi seriamente. In pochi secondi cerca di pensare ad ogni possibile via di fuga ma nessuna di queste sembra fattibile. Allora esce dal bagno e passa un po' di tempo in salotto con Jeffrey. C'è una tensione altissima tra i due. E' come se da un momento all'altro stesse per scoppiare una bomba. L'uomo quindi va in bagno una seconda volta e questa volta decide di agire. Pensa che deve andarsene o quantomeno deve provarci. Capisce di essere davvero in pericolo di vita. Così quando riapre la porta del bagno per uscire e si trova davanti Jeffrey gli tira un pugno fortissimo nello stomaco e scappa più in fretta che può. Dahmer rimane lì a contorcersi dal dolore e intanto l'uomo chiama la polizia. Racconta la situazione agli agenti e spiega anche perché avesse delle manette attaccate in un solo polso. Così con la scusa di trovare la chiave giusta per liberarlo dalle manette tornano tutti in casa di Jeffrey Dahmer. Gli agenti fanno un'ispezione e il killer si offre addirittura volontario per cercare la chiave. Le autorità però sentendo subito quella puzza insopportabile lo fermano e dicono che ci avrebbero pensato loro a cercare in giro. E infatti poco dopo oltre alle chiavi delle manette trovano anche le famose foto dei corpi scattate da Dahmer. Foto palesemente scattate in quell'appartamento. Lì dentro gli agenti trovano anche dei grossi bidoni pieni di acido in cui scoprono dei corpi parzialmente liquefatti. Poi nell'armadio trovano tre teste immerse nell'alcol etilico e altre tre teste dentro il frigorifero. Trovano anche pezzi di carne umana, mani, genitali. Ragazzi, di tutto. Anche se all'inizio cerca di negare il suo coinvolgimento, Dahmer confessa quasi subito tutto quello che aveva fatto portando così alla luce ben 17 omicidi. Anche se molti in realtà pensano che siano addirittura di più. Dopo l'arresto, avvenuto il 22 luglio del 91, il suo caso ha fatto uno scandalo mediatico senza precedenti. Gli hanno subito dato dei soprannomi come il mostro di Milwaukee o il cannibale di Milwaukee. Il suo processo comincia nel gennaio dell'anno seguente e Dahmer in aula si dimostra freddo, calmissimo. Durante il processo, gli orrori che avevano scoperto al momento dell'arresto vengono amplificati ancora di più. E questo a causa di varie rivelazioni. Si scopre infatti che Jeffrey non solo ammazzava e faceva pezzi le sue vittime, ma dopo aver violentato i cadaveri con atti di necrofia, se le mangiava anche. Per questo gli venne dato il soprannome di Cannibale di Milwaukee. Come se già tutto ciò non bastasse, ci sono pure delle foto disgustose che provano in maniera schiacciante quasi tutte le sue azioni orribili. Dahmer è indifendibile. Infatti non c'è molto da dire. A parte i primi due omicidi, avvenuti quasi per caso, direi, Jeffrey ha sempre cercato in tutti i modi di creare quello che definiva il suo schiavo seriale. È questa la particolarità che lo distingue dagli altri serial killer. Lui voleva esercitare un tipo di controllo tale per cui la sua vittima non si sarebbe mossa. Secondo la sua mente malata, il suo partner doveva sottostare a lui e doveva fare semplicemente il cadavere. In un certo senso voleva che i suoi partner, anche da vivi, si comportassero come morti. Perché era quello che lo attirava. Era quello che lo eccitava. Infatti gli vennero diagnosticati vari disturbi di carattere sexuale. C'è anche da dire che a differenza degli altri serial killer, Dahmer è sempre stato plateale. Cioè non si è mai nascosto. Ovviamente ha mentito a sua nonna, a suo padre, ma in generale ha sempre fatto tutto sotto gli occhi di tutti. Praticamente. Non si nascondeva più di tanto. Una volta, per esempio, si è denudato in pubblico, così a caso, ed era stato anche più volte arrestato per attiosceni e molesti sexuali. Ad ogni modo, sempre durante il processo, vengono presi provvedimenti per tenere al sicuro lo stesso Jeffrey dall'ira dei parenti delle vittime. Comprensibilmente questi ultimi erano davvero furiosi. Volevano fargli del male a tutti i costi. Quindi hanno dovuto prendere delle precauzioni, ecco. Comunque, quando Dahmer è seduto in aula, mentre vengono elencati i suoi crimini senza tralasciare nessun particolare, immaginate, lui risulta quasi assente e non fa mai trasparire alcuna emozione. Nemmeno di fronte allo strazio dei parenti. Nemmeno quando cercano di aggredirlo davanti al giudice. L'unica volta in cui parla in tribunale, poco prima che la giuria si riunisse per decidere la sua sentenza, dice queste parole. Sentite. Vostro onore, è finita. Non ho mai cercato di essere liberato. Francamente volevo la morte. Voglio dire al mondo che non l'ho fatto per odio. Non ho mai odiato nessuno. Sapevo di essere malato. Cattivo. O entrambe le cose. Adesso credo di essere veramente malato. Il dottore mi ha parlato della mia malattia e di quanto male ho causato. Ho fatto del mio meglio per fare ammenda dopo il mio arresto, ma non importa. Non posso eliminare così il terribile male che ho causato. Vi ringrazio vostro onore. Sono pronto per la vostra sentenza, che sono sicuro sarà il massimo. Non chiedo attenuanti, ma per piacere, dite al mondo che mi dispiace per quello che ho fatto. Dopo di ciò, Jeffrey Dahmer viene condannato a 15 ergastoli. Nello stato del Wisconsin non vige la pena capitale, ma la sua condanna a morte viene comunque eseguita due anni più tardi, però non in modo legale. Il 28 novembre del 94 viene infatti ucciso in prigione da un certo Christopher Scarver, un uomo che era finito in carcere per aver ucciso sua moglie. Questo Christopher gli ha fraccato il cranio perché era convinto che Dio gli avesse dato il compito di punirlo. Dahmer è venuto al mondo nel dolore e allo stesso modo, nel dolore se n'è andato. Non ho molto altro da dire, sinceramente questa è una delle vicende più macabre e inquietanti di cui io abbia mai parlato, e non sono voluto scendere nei dettagli più macabri volutamente. Sarebbe stato... brutto. Ed è proprio per questi dettagli che la sua storia è così tristemente famosa, per tutto ciò che ha fatto. Comunque, come al solito, fatemi sapere cosa ne pensate. Se volete aggiungere qualcosa, dare una vostra opinione o discuterne, io vi aspetto qui sotto, nei commenti. Intanto, ai pochissimi che rimangono fino a qui, anticipo che presto parleremo di un'altra figura molto conosciuta e molto controversa. Questa volta però si tratterà di una donna. Una donna che, sono sicuro, molti di voi capiranno. Cioè, riuscirete proprio ad entrare in empatia con lei e capire il motivo per cui ha fatto ciò che ha fatto. Quindi spero che rimarrete nei paraggi, per cui se vi ho incuriositi vi ricordo di massacrare i pulsanti iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi, oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!